L'ampliamento della discarica di Contrada Saraceno-Salinello è un obiettivo che si persegue da anni, assieme alla realizzazione del trattamento meccanico-biologico fondamentale per poter utilizzare l'impianto. Adesso c'è l'investimento da parte della Regione, 30 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale nello scorso mese di agosto con il decreto pubblicato nei giorni scorsi. Finanziamento spalmato in quattro anni per consentire finalmente alla SRR Grigento Ovest, presieduta da Vito Marsala e ai comuni che ne fanno parte, di tornare ad utilizzare una delle poche discariche pubbliche della Sicilia. L'apertura della discarica, al termine dei lavori che comunque dureranno credo tre anni, permetterà sicuramente un risparmio per tutti i comuni del comprensorio, ma in particolare per quel che ci riguarda, per il comuno di Sciacca. E quindi potremo avere minori costi. È chiaro che questo è stato un lavoro portato avanti da tutti i comuni, congiuntamente dall'SRR che è il presidente Vito Marsala, che appunto è un motivo di ringraziare per il grande lavoro svolto. Devo dire che questo è stato anche un grande investimento di tutti i comuni che hanno finanziato la progettazione della discarica e quindi il progetto esecutivo. La notizia del decreto di finanziamento è certamente un ulteriore tassello che va appunto a confermare quella che è l'intenzione della Regione, che ha finanziato l'SRR e quindi tutti i comuni, per dotare la parte pubblica di idonee strutture per il conferimento dei rifiuti. Un ampliamento è un adeguamento normativo, perché oggi chiaramente non vuoi soltanto portare la discarica, deve anche trattare il rifiuto, proprio anche ai fini di diminuire la quantità di rifiuto che vai a mettere in discarica e quindi aumentare quella che è la vita della discarica stessa, che comunque non sarà infinita. Adesso c'è da auspicare che la Regione intervenga economicamente anche per ampliare il centro di compostaggio di Contrada Santa Maria. Le strutture sono nella città di Sciacca, sono a disposizione di tutti i comuni del comprensorio. Questo perché la soggiore prima e l'SRR dopo hanno creduto nell'esigenza, nella necessità di realizzare impianti per lo sbattimento dei rifiuti di tipo pubblico. Questa è una grande notizia per noi, perché oggi possiamo veramente avere queste strutture e avere in futuro costi minori di conferimento. Il centro di compostaggio quando è nato è nato per una quantità di rifiuti di diffrazione organica, che era quella di fatto che veniva prodotta, quindi circa 6.000 tonnellate annue. Oggi l'esigenza per il comprensorio è di circa 24.000 tonnellate annue. È stato già fatto in passato un adeguamento per potenziare l'impianto e farlo lavorare a 12.000 tonnellate annue. Aspettiamo un ulteriore finanziamento per il futuro ampliamento che porterà l'impianto a 24.000 tonnellate. Attualmente una parte dei rifiuti di Sciacca, così come quella di altri comuni, non viene conferita all'impianto di compostaggio, ma viene conferita fuori dalla città di Sciacca e fuori dalla provincia di Agrigento con una greve di costi, chiaramente.